Anche all'agrigento ha celebrato il 170esimo anniversario della Polizia di Stato, cerimonia nella caserma Anghelone, gli interventi. 170 anni di storia, compie adesso oggi proprio la Polizia. Celebriamo questa ricorrenza in ricordo intanto di tutte le vittime dei caduti in servizio che hanno perso la vita per difendere sicuramente la sicurezza. Dopo due anni di pandemia abbiamo il piacere di ritornare insieme a ricordare un momento così importante. Faccio gli auguri a tutti i poliziotti, a tutti coloro che fanno quotidianamente sacrifici per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto dei valori democratici. Come è cambiato il porto della Polizia in questi quasi due secoli? Varie trasformazioni lo hanno caratterizzato. Partiamo dal corpo delle guardie di pubblica sicurezza, dalla reggia milizia volontaria nel periodo del fascismo. Arriviamo adesso alla legge 121 che ancora oggi governa l'amministrazione della pubblica sicurezza, che ridisegna tutto il sistema parificando le donne agli uomini nell'intervento, nell'ingresso in polizia, secondo quelli che sono i propri titoli di studio. Nell'avanzamento in carriera, infatti oggi registriamo il 35% dei ruoli apicali è proprio rappresentato da donne. Evoluzione continua, evoluzione che mette comunque la polizia al centro del sistema della sicurezza, con l'organizzazione e la direzione dei servizi da parte del prefetto a livello di indirizzo politico e del questore a livello tecnico operativo per la distribuzione delle forze di polizia sul territorio per raggiungere l'obiettivo, quello di garantire l'ordine pubblico e la sicurezza. È stato un anno particolarmente laborioso, abbiamo registrato purtroppo il lutto e la perdita di uno dei nostri collaboratori, a cui va un ricordo commosso, un ricordo commosso alla famiglia di chi è caduto adempiendo al proprio dovere. Gli altri poliziotti che non ci sono più chiaramente ci hanno lasciato durante l'ultimo anno, anche questi vanno ricordati e mai dimenticati, perché convivono con noi quotidianamente nelle nostre attività e il loro ricordo sarà sempre vivo. Dal punto di vista operativo? Dal punto di vista operativo sono state messe in cantiere tantissime indagini chiaramente e tantissimi risultati che elencherò poi nel discorso formale che farò a conclusione della celebrazione. Vedrete tante persone premiate, i risultati sono lodevoli in tutti i settori, ringrazio tutti i poliziotti e auguro a loro di andare sempre con questo impegno e con questo estusiasmo avanti nell'adempimento del proprio dovere.